Grazie Presidente, allora innanzitutto voglio ringraziare tutti gli uffici e l'assessorato per aver portato a termine questa delibera in quanto che è stata fondamentale l'intuizione di cambiare strumento urbanistico perché ci si era impantanati su un pru che non andava né avanti né indietro e si è passati a un print che consente che questo lavoro sia stato portato a termine in favore di tutti i cittadini di Selva Candida. Confermo che in seduta di commissione urbanistica all'unanimità era stato deciso, è stata scritta verbale, che era intenzione di tutti fare seguire prima i lavori pubblici delle strade e poi i lavori privati. Quindi a seguito di questo consegno il voto favorevole del Movimento 5 Stelle e ringrazio tutti quanti. Grazie.